Decine di persone vengono truffate online ogni giorno utilizzando le criptovalute. Questo è quello che si dice in giro, cioè che le cripto sono la colpa di moltissime truffe online. Ma ragazzi, la realtà è che la colpa non è delle cripto, che è vero che vengono utilizzate per truffare le persone, ma la colpa è dell'ignoranza, della non informazione riguardo l'utilizzo delle cripto online. Purtroppo le persone tendono a fidarsi anche di sconosciuti in ambito cripto, che è una cosa che non dovete fare mai assolutamente, perché magari queste persone si fingono di essere, non so, del supporto di qualsiasi altro servizio o exchange e vanno a truffare le persone che magari non sono molto competenti in questo ambito, che si fidano, che pensano magari di poter guadagnare qualcosa, pensano di avere dei soldi da qualche parte lasciati in eredità. Purtroppo ragazzi, succede davvero ogni giorno, ricevo delle richieste di aiuto incredibili di persone che sono state truffate pensando di poter guadagnare qualcosa con le cripto in modo semplice. E quindi ho deciso di fare un video raccontandovi un articolo che ho letto di un servizio che ovviamente io conosco personalmente, che secondo me può esservi molto ma molto utile. 20.000 euro rubati tramite cripto ad un ad hoc. Vi leggerò questo articolo perché ragazzi saprete perfettamente quali sono i meccanismi che utilizzano questi truffatori in ambito cripto. Quindi alla fine di questo video saprete per bene individuare un truffatore in modo tale da non cadere più in nessuna truffa e saprete anche quali sono i servizi cripto regolamentati che vi impediscono di essere truffati. Quindi mi raccomando, guardate questo video perché ragazzi molto spesso si pensa al guadagno delle cripto senza pensare invece alle truffe e senza pensare a non perdere soldi che secondo me è molto più importante. Ciao amico criptomane, benvenuto o bentornato in questo nuovo video. Se ancora non mi conosci io sono Salvatore. Prima di iniziare come sempre like e commento a questo video per me è fondamentale. Iscrizione al canale, adesso possiamo iniziare. Ti lascio anche in descrizione il link all'articolo che ti sto per mostrare. Questo è l'articolo, ha truffato una donna per 20.000 euro in bitcoin. Intervista alla vittima. Ovviamente ragazzi la vittima racconta come è stata truffata, come è stato approcciato il tutto. È uno dei metodi più utilizzati in assoluto ma gli altri metodi che ovviamente vengono utilizzati sono molto simili. Di solito ragazzi cambia sostanzialmente il come ti contattano, quindi come approcciano. Ovviamente l'articolo che vi lascio come vi ho detto è molto molto lungo. Io vi farò ovviamente un riassunto ragazzi, altrimenti facciamo un video della durata di un'ora. Vi consiglio di leggerlo tutto assolutamente. E ovviamente andiamo subito al sodo e andiamo a vedere come è stata approcciata questa vittima. sostanzialmente viene, diciamo, contattata da questo truffatore. È una donna che ovviamente da poco si era lasciata, tra virgolette, con il marito. Ci racconta un po' di quante truffe online vengono fatte ogni giorno. 547 milioni di dollari, diciamo, di truffe matrimoniali, soltanto in America, mi pare, ok? Sì, negli Stati Uniti. Nel 2022 e ovviamente questa intervista è stata fatta da Bitomat perché è stato il servizio che ovviamente, ragazzi, ha aiutato questa signora truffata poi a recuperare i fondi. Quindi diciamo che la truffa è finita in, diciamo, in modo, tra virgolette, buono. Però ovviamente, magari molto spesso, ragazzi, purtroppo le truffe invece non finiscono, diciamo, con un finale bello e quindi ovviamente le persone perdono i soldi. Di conseguenza, racconta un po' di come è andata sostanzialmente la vicenda tra queste due persone su un'applicazione come Tinder Swindler che in Italia, ragazzi, una donna, appunto, è stata contattata da questa persona. Questa signora che si chiama Stefania dice che, appunto, ha conosciuto questo truffatore tramite internet, era un bel ragazzo, affascinante, simpatico, eccetera, eccetera, e questo ragazzo inizia a parlare fingendosi una persona, tra virgolette, normale. Dopo aver approfondito la conoscenza, quindi dopo essersi fatto sostanzialmente conoscere, quindi l'altra persona dall'altro lato non pensa questa persona mi vuole truffare perché magari per i primi giorni, per le prime settimane non c'è nulla di strano, sembra una normalissima persona online e quindi iniziate magari a prendere fiducia. Questo è il primo step dei truffatori, quindi non vi contattano subito promuovendo o cercando di, diciamo, togliervi qualcosa o di farvi fare qualcosa, ma vi contattano normalmente, magari parlando del più e del meno, cercando di instaurare un rapporto ed è proprio quello che ha fatto questo truffatore con questa signora. Quando la conoscenza va avanti il truffatore inizierà poi a fare delle domande. Innanzitutto ti aggiunge su tutti i social, questo è quello che fa di solito, ok? È successo così a questa signora. Che cosa succede? Che poi inizia a parlare di cose private, come ad esempio i soldi. E che cosa fa? Non fa prima le domande, ma dice prima un qualcosa di privato suo. Infatti nel caso, diciamo, di questo truffatore ha detto che durante la sua carriera da chef ha conservato 5.000 euro. E poi ovviamente ha chiesto ma tu hai conservato qualcosa? Quindi ovviamente quando i sospetti dell'altra persona non ci sono, quindi dopo aver instaurato un rapporto e non subito, magari dopo qualche giorno, settimana in cui parlate, iniziano a subentrare ecco degli argomenti che riguardano i soldi. e magari ovviamente la persona che a quel punto si fida risponde anche. Infatti la persona truffata ha risposto sì, ho messo da parte 20.000 euro. Questa domanda serve al truffatore per capire se dall'altra parte ci sono dei fondi da sottrarre, se la persona in questione ha qualche, diciamo, cifra, qualche somma conservata a cui aspirare sostanzialmente, altrimenti se l'altra persona è, diciamo, da virgolette una persona che non ha nulla, di conseguenza il truffatore non ha molto a cui aspirare. Quindi, dopo aver instaurato un rapporto importante e quando il truffatore si accorge che dall'altra persona magari ci sono anche in ballo dei sentimenti, ragazzi, lì inizia quella che è la vera e propria strategia di truffa. Voi mi direte, magari io non, diciamo, non stringo un rapporto con una persona sconosciuta, però ragazzi, vi assicuro che online succedono ogni giorno queste cose e possono succedere. E soprattutto, anche se non in ambito, tra virgolette, amoroso, succedono anche in altri ambiti. Magari il truffatore sa che avete bisogno di una determinata cosa e gioca su quella cosa. Esempio banale. Molto spesso, quando alcune persone entrano in un gruppo di magari di un exchange, di un qualcosa di servizio e hanno un problema e vanno a scrivere in un gruppo, ok, queste persone approfittano contattandovi in privato, facendo leva su quel determinato argomento, dicendovi io sono del supporto di questo exchange, di questo servizio, di quest'altro, io lavoro in questo settore, io faccio e dico, mettendo da parte, mettendo davanti i ragazzi l'intenzione di volervi aiutare. Stringendo poi man mano un rapporto, spesso, diciamo, per far fidare le altre persone, che cosa fanno? Vi danno anche delle piccole cifre. Quindi magari dall'altra parte ci si finita perché, diciamo, la persona truffata pensa, ok, questa persona mi sta aiutando realmente e mi ha dato anche una piccola cifra, è vero quello che mi sta dicendo, buttano, diciamo, tra virgolette, l'amo che serve, ragazzi, poi a far cadere nella truffa le persone. Quindi, diciamo che la tecnica utilizzata è sempre questa, contattano, stringono un rapporto, cercano poi magari con qualche, in qualche modo di, diciamo, stringere un rapporto un po' più intimo e poi passano, tra virgolette, all'azione che sostanzialmente si riconduce sempre a soldi e criptovalute. Ovviamente, per non tirarla troppo per le lunghe, questa persona chiede un sostegno economico perché dice di essere un siriano, dice la guerra, dice che un bonifico fatto in bitcoin piuttosto che un bonifico bancario sarebbe stato l'ideale, ovviamente la persona si fida e va sostanzialmente a fare questo, diciamo, tra virgolette, bonifico in bitcoin perché si era innamorata, voleva aiutare questa persona a venire, tra virgolette, in Italia e va a mandargli queste cripto in bitcoin. Quindi, questo truffatore dice guarda, cerca un ATM bitcoin, la signora va su internet e cerca gli ATM bitcoin in Italia. Ovviamente, ragazzi, esce Bitomat che è l'azienda numero uno di ATM bitcoin in Italia, ho fatto tanti video e quindi lei ne cerca uno a Milano, trova questo ATM a Milano e si rega a questo ATM. Al telefono con il truffatore, il truffatore gli dice tutto quello che deve fare, scansione al documento, deposita i contanti e invia all'attres del truffatore. Tutto semplice, riesce a fare la transazione, il truffatore riceve dei propri fondi. Ogni settimana la donna va a dare qualcosa a questo truffatore, ormai ci credeva, si fidava, pensava potesse venire in Italia a lavorare, ad un certo punto una transazione viene bloccata. Viene bloccata da Bitomat ed esce appunto il numero dell'assistenza che tu puoi contattare se sto vicino all'ATM. Lei contatta l'assistenza e l'assistenza segnala alla signora che la transazione è stata bloccata perché l'address in questione è stato definito un address sospetto. Quindi lei torna a casa, chiama Ahmed, si insospettisce ovviamente perché inizia a pensare come mai questo address è sospetto, di conseguenza il truffatore di là inizia ad aver paura, quindi cambia atteggiamento e da lì ragazzi iniziano ovviamente tutti i sospetti del caso. Finché poi la donna non arriva a denunciare il tutto perché capisce che ovviamente il truffatore dall'altra parte inizia a cambiare atteggiamento, inizia a sparire ovviamente a cercare di far togliere tutte le proprie tracce perché capisce di essere stato scoperto. Lei va a denunciare il tutto alla polizia e poi ovviamente contattando l'assistenza di Bitomat riesce a recuperare tutti i propri fondi. Ragazzi, questo per fortuna è andato a buon fine come vi ho detto perché è stata utilizzata un'azienda seria che davvero opera in Italia in modo corretto che richiede diciamo i documenti tra virgolette per poter fare una transazione e va a verificare se dall'altra parte ci sono degli address sospetti che vengono messi in una blacklist definita e ovviamente questo può andare a buon fine perché appunto la signora poi contattando l'assistenza dopo la denuncia eccetera eccetera è riuscita a recuperare tutti quelli che sono i propri soldi. Ovviamente vi ripeto ragazzi magari non utilizzando un servizio del genere e facendo delle transazioni diverse ok si rischia di perdere per sempre tutti i propri soldi. Per questo dovete fare attenzione dovete ragazzi non fidarvi innanzitutto di nessuno online e soprattutto utilizzare dei servizi seri come ad esempio Bitomat magari prima di fare una transazione una o qualsiasi cosa che state cercando di fare contattare l'assistenza il supporto contattateli voi quindi o direttamente da un ATM o dalla loro pagina ufficiale X di Lex Twitter o dalla loro pagina Instagram quindi dai loro contatti ufficiali che trovate ovviamente in descrizione sotto al video che trovate sul loro sito che è questo qua ragazzi bitomat.com quindi se contattate voi l'assistenza sarete sicuri di star parlando con un operatore di quella determinata azienda se vi contattano in privato dicendo io sono uno d'esporto di questo exchange di questo servizio ragazzi innanzitutto non vi fidate mai 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 quindi ricapitolando che cosa fanno i truffatori online di criptovalute o vi contattano senza darvi diciamo nessun sospetto andando a parlare di cose generiche e cercando di stringere un rapporto oppure vi contattano fingendosi del supporto di qualche servizio di exchange exchange centralizzati decentralizzati o qualsiasi altro servizio di criptovalute cercano di aiutarvi in qualche modo cercando appunto di ottenere la vostra fiducia e poi passano all'azione quindi ragazzi non vi fidate quando vi contattano in privato mai nemmeno se vi aiutano realmente ok ragazzi perché spesso può essere un amo per truffarvi poi realmente non date mai le vostre password credenziali soldi a nessuno mai ovviamente se succede come nel caso di questa signora in ambito amorevole ragazzi purtroppo sono cose che succedono e prima di passare ad aiutare una qualsiasi persona fate le vostre verifiche magari utilizzate determinati importanti e dovete essere soprattutto insospettiti se si tratta di transazioni in criptovalute ok come in questo caso quindi ragazzi spero che questo video possa aiutarvi e se decidete di utilizzare Bitomat che è l'unico servizio di cripto che io utilizzo per quanto riguarda deposito e prelievo in contanti acquisto e vendita in contanti di criptovalute ovviamente ragazzi in descrizione trovate tutti i loro contatti anche il numero per avere appunto un contatto diretto con l'assistenza per eventuali problemi e per essere sicuri di qualsiasi cosa spero che questo video vi sia stato utile per non ricevere le truffe per non essere truffati ok mettiamola così ovviamente ragazzi un like al video apprezzatissimo iscrivetevi al canale io vi aspetto come sempre al prossimo video un like al prossimo video un like al prossimo video